Monta la protesta in città per l'adeguamento della TIA che porterà i cittadini a pagare 60 euro in più rispetto a quanto versato lo scorso anno. Commenti entusiasti del PD per la chiusura di TVN nel 2034. Per Ghirga invece solo una presa in giro. Molto critico anche il presidente dell'Udc Messina. Ambulanze sul litorale viterbese arrivano ai tagli dell'Ares 118. I sindaci di Moltalto e Tarquinia chiedono aiuto a Zingaretti. Blocchi subito il bando. Il CSL pareggia 2-2 al fattori contro il Cori nell'andata della semifinale di Coppa di Calcio di seconda categoria. Buonasera e bentrovati con il nostro telegiornale. Monta la protesta in città per l'adeguamento TIA approvato dal Consiglio Comunale che avrebbe portato i Civitavecchiesi a pagare 60 euro in più rispetto a quanto già versato nel 2011. I bollettini recapitati in questi giorni alle famiglie Civitavecchiesi mostrano un altro dato. Adeguamenti TIA salatissimi. Sentiamo il servizio. Monta la protesta in città per l'adeguamento TIA approvato dal Consiglio Comunale e che avrebbe spillato dalle tasche delle famiglie Civitavecchiesi altro denaro rispetto a quello già versato nel 2011. 122 euro di adeguamento. È questa la somma che una coppia di pensionati dovrà pagare per un appartamento di 92 metri quadri. Denaro che va ad aggiungersi alle 293 euro di TIA già pagate in due rate nel 2011. Per un totale di 415 euro per un appartamento abitato solo 4 mesi all'anno, dato che la sfortunata coppia di pensionati ha deciso di trascorrere il resto dell'anno in un'altra città italiana, dove i costi della nettezza urbana sono molto più bassi, 205 euro totali. Somma che comprende anche la fornitura di sacchi dell'immondizia per la raccolta differenziata. E con loro tantissimi altri Civitavecchiesi hanno ricevuto in questi due mesi una vera e propria stangata, come anche quella ricevuta da una famiglia di 4 persone che per un appartamento di 96 metri quadri drova a pagare un adeguamento di 154 euro, alla faccia delle 30 euro media persona stimate dall'amministrazione comunale. In una nota infatti dal Pincio hanno comunicato che in base all'integrazione TIA l'importo varia mediamente da 700 euro esercizi commerciali a 107 euro private abitazioni. In media scrivono dal comune 30 euro a persona, ma a conti fatti, se la matematica non è un'opinione, le bollette mostrano tutt'altro, 60 euro a persona. Adeguamento indigesto, oltre che ad essere arrivato in diversi casi in ritardo rispetto ai termini del pagamento fissati al 15 marzo, è che andrà saldato entro il 31 marzo. E i problemi per i Civitavecchiesi non sembrano finire qui. Guai in vista anche con l'arrivo della Tares. Su questa nuova imposta, che prevede un incremento della tariffa del 14%, il nuovo governo dovrà effettuare una scelta. Anticipare da luglio ad aprile prossimo i termini di pagamento, oppure rinviarli a gennaio 2014, perché altrimenti la situazione sarà davvero difficile, come spiegato dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, Graziano Derrio. L'applicazione della Tares, spiega, potrà creare a breve crisi di liquidità per le imprese di raccolta dei rifiuti, e quindi futuri problemi in questo senso potrebbero riguardare tutti i comuni italiani. Ed è proprio di questo che si è parlato nella conferenza Stato-Regioni, che ha deciso di appoggiare la richiesta avanzata dalla Regione Campania e dal Lanci di far slittare la Tares al 2014, e di ritorno immediato alla Tarso. Ma dal governo è stato riferito che al momento non è possibile intervenire sulla Tares con un decreto, a fronte di una decisione presa su questo ambito particolare dal Parlamento. Intanto, per risolvere il problema legato ad HCS e alle SOT, il Partito Democratico Locale e il Sindaco Tidei propongono l'unica soluzione per loro possibile, vendere città pulita. Chiuso l'iter della Marina. Dopo l'ammenda di 20.000 euro comunicata al Comune dalla Regione per zanare l'abuso sull'opera, ora è finalmente arrivata la determina dirigenziale per pagare la multa. E così, finalmente, i civitavecchiesi, a breve, come annunciato dal primo cittadino, potranno tornare a godere della Marina. L'apertura è infatti fissata per la ricorrenza di Santa Fermina. Sono poche le opere necessarie all'ultimazione, spiegano dal Pincio, che riprenderanno a breve con la messa in opera di una quarantina di metri di ringhiera per i quali la ditta ha richiesto 30 giorni di realizzazione. E dall'amministrazione, commenti entusiasti per la chiusura di TVN nel 2034. Ma non sono della stessa opinione il dottor Giovanni Ghirga e il presidente dell'Udc locale Pietro Messina. Sentiamo il nostro servizio. Finalmente delle buone notizie, una luce in fondo a quello che è stato fino ad oggi un tunnel nero come il carbone. Queste altre sono le parole entusiaste da parte del Partito Democratico di Civitavecchia a proposito della chiusura di TVN nel 2034. Sarà compito del PD quello di costruire una città diversa e migliore per le famiglie e i figli che quelli che ora sono giovani civitavecchiesi vorranno far nascere e crescere. Ma nel frattempo il partito di centrosinistra chiede all'Enel di investire nella città che a causa sua sta tardando una sua emancipazione turistica. Ma se quelle del PD sono parole piene di soddisfazione, dall'altra parte c'è il commento amaro del dottor Giovanni Ghirga. Sentitevi tutti presi in giro. Sì, perché a quanto dichiara il medico nella valutazione di impianto ambientale della relazione istruttoria, E'nel dichiara che la durata della vita dell'impianto di produzione dal punto di vista economico-industriale è prevista in 25 anni. Se si fanno due calcoli, quindi, è facile capire che la chiusura di TVN era già prevista e non c'è alcuna novità. Perché poi, solo ora, continua Ghirga, avverrà la riduzione delle polveri. Perché quando i medici dell'ambiente hanno chiesto il dosaggio della diossina nel latte materno e negli animali da pascolo non sono stati presi in considerazione, come è stato anche per l'interramento degli elettrodotti chiesto dal Movimento 5 Stelle alla Commissione Europea. Dubbiose, invece, le dichiarazioni da parte dell'Avvocato Pietro Messina, presidente dell'Udc Civita Vecchiese. Abbiamo appreso con molto interesse la notizia del rinnovamento dell'autorizzazione per TVN e dello stesso provvedimento che prevede la chiusura dell'impianto. Se davvero fosse vero, si tratterebbe di un patto di importanza storica della città. Ma ci chiediamo, continua Messina, se davvero di chiusura inderogabile si possa parlare. Il portavoce dell'Udc esprime seri dubbi su due punti. Se non ci sarà una chiusura definitiva di TVN, allora nel 2034 ci sarà una riconversione a un'altra fonte di riproduzione? E se fosse così, come si può giustificare l'esultanza da parte dell'amministrazione comunale? A questo punto, conclude l'Avvocato, non ci resta che aspettare le carte. Dovrebbe tenersi venerdì pomeriggio l'incontro tra il sindaco Tidei e il ministro dell'Ambiente Corrado Clini per confermare la candidatura del porto di Civitavecchia a sito per la demolizione della nave Costa Concordia. Si tratta della nuova tappa di una vicenda che da mesi vede il nostro porto in primo piano, in alternativa ad un ventaglio di possibilità tra le quali spicca Piombino. Appare evidente l'urgenza di trascinare la nave fuori dal Giglio e trasportarla al più vicino porto disponibile in grado di ospitarla sino alla sua demolizione, ha sostenuto Tidei. Piombino non è in queste condizioni. Non esistono neppure fondi già stanziati per avviare le procedure di inizio lavori. La nave rischierebbe di uscire dal Giglio senza certezza di un prossimo approdo sicuro. Ecco il primo pericolo ambientale che Clini dovrebbe preoccuparsi di evitare, ha concluso. Non solo 10 tirocinanti, ma tutti e 24 verranno reimpiegati al Palazzo di Giustizia di Civitavecchia. Ed il merito del risultato va davvero dato tutto a loro, che stamani si sono presentati dal sindaco Tidei insieme ai sindacati, con i 10 che erano stati scelti che hanno detto di essere disposti a dimezzarsi lo stipendio purché venissero tutti dimessi al proprio posto di lavoro in tribunale ed in procura. Proposta che possiamo sentire dalla loro stessa voce in questa intervista. Allora, voi tirocinanti della giustizia, 10 di voi sono stati praticamente reintegrati al Palazzo di Giustizia di Civitavecchia. Oggi però siete agli uffici del Comune per chiedere che cosa? Prima di tutto le modalità di reintegro, perché noi stiamo seguendo una battaglia a livello nazionale di stabilità presso il Ministero dopo più di due anni che lavoriamo come tirocinanti. Nel contesto il Tribunale di Civitavecchia ci ha contattato per fare delle borse lavoro in attesa di praticamente entrare a lavorare con il Ministero sempre come progetto formativo. Nel nostro contesto noi siamo 26, su tutto il Tribunale e la Procura di Civitavecchia. Hanno contattato solo 10. A me e a noi qui presenti sembra proprio la classica battaglia tra poveri perché non è giusto fare buoni e cattivi o fortunati e sfortunati. Ciò vogliamo proporre al Presidente della Cooperativa che ci farà questo contratto di borsa lavoro di abbassarci la retribuzione e entrare in questa borsa lavoro che sarà forse massimo di sei mesi, si dice, far entrare tutti a 26 perché non ci sembra giusto fare buoni e cattivi. Voi siete disposti a dimezzarvi lo stipendio che già è di circa 500 euro al mese pur di far entrare tutti quanti? Eh sì, una battaglia si fa così, se no è inutile. Ha finalmente preso il via ieri mattina il processo per il suicidio di una detenuta del carcere di Borgata Aurelia avvenuta il 20 giugno del 2009 quando la ragazza si tolse la vita impiccandosi all'interno della propria cella. Dopo oltre un anno di rinvii si è tenuta la prima udienza dove sono stati ascoltati i primi testi dell'accusa. Nel processo sono imputati l'allora direttrice del carcere, lo psicologo, la responsabile della sezione femminile ed il dirigente degli agenti di polizia penitenziaria. Dove aver escusso i primi testimoni, il processo è stato poi aggiornato al prossimo 27 marzo quando si proseguirà l'audizione di ulteriori testi. A Tolfa gli alunni delle elementari e medie imparano e si divertono. Presentato stamattina il progetto ideato dall'Associazione Chirone è finanziato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Civita Vecchia con il ciosegno del Comune Colinare. Bene 1.500 studenti avranno l'opportunità di partecipare in gruppo a laboratori didattici per un museo a misura di bambino. Sentiamo le interviste. Imparo e mi diverto, un museo a misura di bambino. Quali sono i progetti di questa iniziativa? Sì, questa è un'iniziativa che ormai si ripete da diversi anni. Grazie ovviamente all'Associazione Chirone che gestisce tutto il nostro polo culturale, il museo, la biblioteca e soprattutto questi laboratori per giovani, per ragazzi, per studenti e per bambini che hanno proprio il significato di investire su quella che è la conoscenza del territorio, la cultura e l'archeologia. Presidente, la Fondazione è sempre in prima linea in merito al sostegno di importanti iniziative. Questa volta siamo a sostegno del Comune di Tolfo, appunto con il progetto Imparo e mi diverto. Sì, è un progetto che mi pare sia arrivato alla quarta edizione. Quindi è un progetto che la Fondazione ha ritenuto valido sin dall'inizio e che continua sicuramente a finanziare. Debo dire che la Fondazione è molto vicina a questo tipo di progetto che è educativo, sicuramente educativo, per quei ragazzi che hanno quella fascia d'età dove si gioca un po' tutto. Quindi è molto variegato, è sicuramente influente dal punto di vista, come dicevamo, della loro educazione e della loro formazione. Quindi quando si tratta di formazione e di istruzione con progetti seri la Fondazione è sempre presente. E devo dire che Tolfo, insieme a molti altri centri di nostra competenza, è sempre molto attiva a questo tipo di discorso. Ma addirittura Tolfo ha una sinergia tale per cui poi a questo progetto parteciperanno circa 1.500 bambini, che significa un allargamento notevole da parte di Tolfo in poi e quindi tutte le zone peraltro di competenza della Fondazione. Adesso una breve pausa pubblicitaria. A tra poco.